Un'altra cosa importante è l'allineamento tra la vision, tra la mission e tra la promessa che fate al vostro cliente. Se voi avete ben chiaro, questo è un lavoro che si fa molto all'inizio generalmente, se voi avete ben chiaro di dove volete andare, è difficile, tutte le volte che dovete prendere tante piccole decisioni su come aggiustare, se avete ben chiaro qual è il punto di arrivo, è difficile che voi disperdiate le vostre energie facendo cose che non servono, ad esempio. Ieri è venuta una ragazza che fa un master per parlare di una sua idea, vuole fare una sorta di camping hippie in Abruzzo e il suo obiettivo è quello di fare una struttura in cui arrivano questi qua, si rilassano, fanno le passeggiate, leggono i libri, fanno qualche attività tipo camminata e poi dopo diceva, a me piace l'idea della comunità e quindi tutti, a mezzogiorno e mezzo si devono trovare e c'è uno che cucina, l'altro che lava i piatti e tutti che mangiano. E io gli ho detto, ma scusa, vuoi fare una comunità hippie in cui tutti fanno fondamentalmente quello che gli pare perché devono essere completamente disconnessi e gli obbliga ad andare a mezzogiorno e mezzo a mangiare tutti, devono mangiare tutti insieme quello che cucina uno? Questo cos'è? Non è allineato con la vision del proprio progetto, quindi bene o male se voi avete ben chiara questa cosa, tutte le volte che dovete decidere come mettere in piedi il vostro servizio è una cosa che vi può servire.